Ciao a tutti belle butte, vostro Cristian e Ares, eccoci tornato a un nuovo video dedicato a One Piece vs Squish, versione giapponese. Allora, farei tre pull, un 132 gemme, scusate, la dialettica un po' particolare, sono ancora in belleggiatura, stanotte c'è stato un bel temporario, quindi oggi è niente mare. Siccome non siamo qui a pettinare le bambole né a coltare i detti di squali o a scivare gli scogli, vorrei dopo queste affermazioni direi di fare questi tre lacci e andare a vedere quali personaggi si possono trovare in questo fantastico sugo fest. Allora, andiamo a vedere tutti i personaggi che ci saranno probabilmente nel film che uscirà, spero a breve, che andremo a vedere. Queste qua sono le due lecette che ci sono già troppo, un po' di leggende, vabbè, sono, teoricamente sono recenti, però vabbè, non di questi, di due sugo feste fa. Andiamo avanti, questo qui che è Brook, di Wapis, appunto, però aveva i capelli multicolore delle introiste, però vabbè, finito. Chopper che piange, forse, sicuramente non è una versione del film, però sto qui del film che uscirà a breve. Allora, niente, primo lancio 30 gemme e poi le successive 50 gemme, quindi un totale di tre lance. Andiamo a fare questo, questi tre pull, scusate la voce, ma sono un po' raffreddato e poi sono in una casa appena, in un appartamento appena ristrutturato e il biercato quindi fa un po' di rimbombo. Allora, direi di fare questi tre lance, non ho portato il computer con me, quindi ci saranno tutte le varie cose, a livello visivo, grafico, non sarà proprio perfetto, però vabbè, pazienza. Allora, diciamo, la nostra frase, dai Luffy, faccio tre delle leggende. Ultima release di Sanji. Abbiamo trovato ciò per poco... Vabbè, questo qua è più niente. Tutti personaggi nuovi. Cioè, nel caso fatemi trovare magari Germa, così mi devono anche i peschi. Ah, il dual. Fatto, e questo non ce l'avevo. Ok, vediamo un po' sta leggendo se si muove più le nuove. Buonko. Eh, bellissimo, veramente molto bello. Ehm, vabbè, Pebopool è andato a merda. Scusate il termine. Direi di continuare. Neanche qualche personaggio che posso utilizzare nella presence map, a quanto pare. Allora, dai Luffy, faccio trovarmi una leggenda o qualcosa di utile, diciamo così, così almeno, magari, per più benevole. Non ne hanno più muerto nessuna leggenda a fornì. Certamente, essendo il secondo lancio, dovrei trovare almeno uno del poster. Ma questo è strano, e non ce l'avevo io. Ma questo è abbastanza utile. Ma dai, questo è pure oro. Però, perché versione? Perché giustamente, perché fanno di trovare l'ultima versione? Oh, leggenda. Vediamo un po' che cos'è. Vabbè, che boa. Le sto trovando tutte io, le boa. E non mi sto ritenendo al cappiazzare. Ah, una leggenda. Speriamo che sia una delle ultime. Vabbè, non dico niente, senza parola. Facciamo il terzo e ultimo pull. Ah, stiamo facciando tutto sbagliato. Dicevamo la nostra frase. Dai, Rafi, facci trovare qualcosa di recente, diciamo, e anche leggende. Facci trovare leggende e qualcosa di recente. Ok, Rafi? Ok. Proviamo un po'. Vabbè, come visto prima, possiamo trovare qualche oro che si trasformi in leggenda. Vediamo un po'. Ma questo qua, ancora presto. 3000 ci sono i personaggi. Vabbè. Vabbè, me lo maxerò. Vabbè, almeno questa. Uh, vai. Brook. Non so cosa fa, però mi piace il disegno. È fantastico. Troppo bello. Vabbè, a meno uno delle... Uno che busta, ce l'abbiamo trovato, è un po' leggenda. Speriamo che sia qualcosa di utile. Delice. Vabbè, tre lanci, tre leggende, tre doppioni, di cui una tripla. Com'è? 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 Come l'ho appena trovata prima? Vabbè. L'ho anche super evolvuto. Vabbè, nulla ragazzi. Questo è stato il mio... Sono stati i miei tre pull. Spero che vi sia piaciuto. Scusate ancora la poca grafica, però vabbè, pazienza. Sono al mare, quindi vabbè, non volevo lasciarli a bocca asciutta per una settimana. Quindi nulla. Dall'ido di volano. Quindi, com'è? Un saluto a tutti per le butte vostre. Queste le ha. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Prossima live. Ciao. Ciao.